Sono le due del pomeriggio. Alla stazione Termini, i testisti napoletani sono a volto coperto, nascondono bastoni dentro le bandiere, lanciano petardi contro la polizia, minacciano i giornalisti. Dalla stazione di Napoli, due ore prima, avevano aggredito le forze dell'ordine con pietre e petardi, otto poliziotti e quattro carabinieri con fissi. Molti ultra partiano pei, sono senza biglietto, interviene la polizia, c'è una prima carica, molti decidono di andare.